Due mesi dopo le sconvolgenti rivelazioni del sito TMZ, l'attore Stephen Collins parla dell'accusa di pedofilia che gli sono state mosse Il reverendo Camden di Settimo Cielo era stato registrato mentre confessava di aver avuto contatti sessuali con tre ragazzine tra gli 11 e i 13 anni, in un periodo dal 1973 al 1994 Ora Stephen Collins ha rilasciato un lungo comunicato pubblicato da People Magazine nel quale ammette di aver molestate le tre ragazzine e chiede perdono, 40 anni fa, ho fatto una cosa terribile di cui ora mi pento profondamente Da allora ho fatto di tutto per espiare le mie colte L'attore ha confessato di aver molestato più volte una bambina nel 1973 e poi di aver ripetuto atti simili su due ragazzine nel 1982 e nel 1994 e ha affermato di essere stato in terapia per 20 anni Collins ha raccontato di aver cercato il perdono della sua prima vittima ma di non aver tentato poi altri contatti con le altre ragazzine per timore di riaprire le loro torine Steven Collins ha poi ribadito di non aver mai avuto alcun comportamento inappropriato durante la sua partecipazione alla Serie Settimo Cielo, né su qualsiasi altro set Per il momento non risultano accuse penali contro